Eccoci, parleremo di Docker e in particolar modo di come gestire Docker utilizzando Python. Quanti di voi conoscono Docker? Un bel numero, un bel numero. E quanti di voi lo utilizzano? Già un po' meno. Veniamo alle presentazioni, mi chiamo Giancarlo Fanelli, insieme con il mio collega Massimiliano Cuzzoli, siamo parte del team di ricerca e sviluppo di Domots, che è una start-up fondata nel 2014 nell'ambito dell'internet delle cose, più precisamente per l'home automation, quindi la domotica, e attualmente abbiamo uffici operativi a Londra, a Pisa e Norwalk negli Stati Uniti. L'intera infrastruttura di back-end della nostra soluzione software è sviluppata in Python, così come pure tutti i test automatici sono scritti in codice Python. Mentre tutti i nostri servizi, sia che essi siano microservizi o macroservizi, sono in ambienti virtualizzati, in particolar modo su Docker per quanto riguarda gli ambienti di sviluppo e di test, mentre per quanto riguarda la produzione stiamo ancora valutando quanti di questi servizi e quali li porteremo su Docker. Lasciatemi che vi presenti quello che, diciamo la scaletta di questo talk. Vi introdurremo al concetto di Docker e agli elementi base che costituiscono Docker, con un esempio pratico di, lasciatemi dire, dockerizzazione di un'applicazione preesistente. Poi vi introdurremo ad alcuni tool Python per la gestione di Docker ed in particolar modo alle librerie alla base di questi tool. Per concludere, con una demo interattiva di utilizzo di queste librerie Python per l'elasticizzazione di un'applicazione, di una nostra applicazione, quindi un load balancing in Python. Il tutto dovrebbe durare circa 30 minuti per lasciarvi poi uno spazio per una sessione di question and answer. Ok, quindi abbiamo visto che una parte di voi utilizza Docker, immagino che molti più di voi utilizzano sistemi di virtualizzazione. Più o meno quanti? Quasi, insomma, un bel numero. Perché è importante una forma di virtualizzazione? In primo luogo ci permette di gestire in maniera efficiente le risorse fisiche delle macchine, in maniera più efficiente. In secondo luogo, in secondo luogo non essendo legati ad una macchina fisica, è più semplice prendere le nostre appliance, in un ambiente virtuale e portarli da un data center ad un altro. Quindi diciamo che la gestione di un disaster recovery è ottimizzata. Inoltre, clonare una macchina virtuale è molto più semplice che ricostruire da scratch, da zero, una macchina fisica. Quindi il provisioning, anche in questo caso, della nostra appliance è semplificato. Quindi immaginiamoci di dover bilanciare il carico della nostra applicazione aggiungendo macchine virtuali è molto più semplice che aggiungere macchine fisiche. Inoltre, diciamo che tanti dei data center si stanno muovendo per questione di sicurezza, sempre di più al paradigma di one service, one machine, quindi un'isolation della nostra applicazione. E in questo caso le macchine virtuali ci aiutano. inoltre, proprio la virtualizzazione del server e l'astrazione dal livello fisico dell'hardware ci permette di essere pronti alla migrazione delle nostre appliance verso un ambiente cloud o ancora meglio da un sistema di cloud a un altro. Vediamo come sono strutturate le macchine virtuali. Allora, le classiche, partiamo dalla classica virtual machine. Abbiamo un, nel caso di virtual machine tradizionale si parte dall'avere una macchina fisica con sopra il suo sistema operativo sul quale mettiamo un VM monitor, quindi un API advisor, che sarà il gestore delle nostre macchine virtuali. Cosa sono queste macchine virtuali? Sarà costituito da un sistema operativo del nostro guest con sopra la nostra applicazione e tutte le sue dipendenze. Quindi il nostro, la nostra appliance è tutto il blocco, il box evidenziato che comprende quindi anche il sistema operativo ospite. Sto un po' semplificando per una questione di tempi, quindi siamo un po' stretti con i tempi con i tempi. Per quanto riguarda invece un sistema di virtualizzazione di tipo Docker, si parte dall'avere sull'hardware un sistema operativo Linux, in questo caso Docker rigida su Linux e tramite una serie di tecnologie tra cui Cgroup e Namespace riusciamo a creare un'astrazione per i container. Questo è semplicemente un tipo di virtualizzazione non della macchina fisica, ma solo dell'istanza di kernel Linux. Quindi le nostre appliance saranno sopra queste tecnologie e saranno costituite solo dalla nostra applicazione e più le sue dipendenze, senza il sistema operativo. Docker non è nient'altro che un gestore di questi container. E lasciatemi dire che è un gestore, semplifica la gestione di questi container. Quindi qual è il vantaggio di utilizzare Docker rispetto a una macchina tradizionale, una virtual machine tradizionale? È che non ci portiamo dietro il peso, il carico di un sistema operativo guest. Quindi diciamo è molto più snello. Lo svantaggio è che attualmente Docker è solo Linux over Linux, quindi possiamo solo creare dell'appliance su Linux. Cosa è Docker? Dicevo è un sistema che ci permette in maniera semplice di gestire i nostri container. È talmente tanto semplice che con uno slogan possiamo definirlo come un Linux container for humans. Perché? Perché ci permette in maniera semplice di impacchettare in modo versatile la nostra applicazione. In più, proprio per questo motivo ci permette di distribuirla su più ambienti senza troppi sforzi. E allo stesso tempo ci permette, ci dà la possibilità di versionare l'intera appliance. Dietro a questa struttura, la struttura di Docker, ci sono due concetti base. Il primo è quello delle immagini Docker, ovvero tutto il file system, incluso binari, dipendenze, file di configurazione, eccetera, che costituiscono la nostra appliance. La configurazione che ci permette di lanciare la nostra appliance, quindi il come viene istanziata la nostra applicazione. Inoltre, lo snapshot, cioè la fotografia cristallizzata di quella che sarà la nostra immagine, che costituisce binari e configurazione. Quindi a partire da questa immagine, quello che avremo è, quindi il lancio della nostra immagine non fa altro che creare delle istanze di Docker container, che sono fondamentalmente delle istanze di file system in read e write della nostra immagine, dove la nostra applicazione gira. Una nota importante è che le immagini Docker possono essere create, possono essere costruite a partire da altre immagini esistenti. Quindi si viene a instaurare un concetto di layering delle immagini. Quali sono i componenti, le componenti base di un sistema Docker? In primo luogo il Docker daemon, che è il server che gestisce i container e le immagini della macchina. Una command line interface con cui è possibile interagire con il daemon. Il Docker Hub, cos'è il Docker Hub? Il Docker Hub è un concetto molto simile a quello che è GitHub per il codice, cioè è un repository per le immagini Docker. In questo caso quindi si introduce il concetto di diversioning delle immagini. Esiste un repository pubblico per un Docker Hub pubblico in cui potete fare una push delle vostre immagini che mettete a disposizione della comunità. potete crearvi il vostro, nessuno vi vieta di creare il vostro repository privato. Ok, veniamo ora a partire dalla descrizione data dei tool Docker. Facciamo vedere come riusciamo a dockerizzare un'applicazione scritta in Python e diciamo preesistente. Prendiamo come esempio un sistema di voto per artisti. Prendiamo ad esempio Music Awards in cui vogliamo votare i nostri artisti. In questo caso abbiamo scelto una web app basata su Bottle. Quanti di voi conoscono Bottle? Molto probabilmente conoscete molto di più Flask, fondamentalmente è il fratello minore di Flask. Quindi ci permette in maniera semplice di scrivere con pochissime righe di codice un'applicazione di senso compiuto che ci mette a disposizione due call. Una put per votare i nostri artisti e una get per prendere i voti degli artisti. Quindi ci ritornano i voti degli artisti. Vediamo in codice, in codice Python cosa si significa, come è scritta questa web app, questa nostra web app. Fondamentalmente abbiamo le nostre due call, la put e la get, che insistono sul nostro database basato su Redis. Vedendo invece come la nostra applicazione completa è strutturata in schemi a blocchi, avremo la nostra web app Python su Bottle, il nostro front-end web server su Nginx e la nostra data persistency su Redis. Ora, a partire da questo schema a blocchi, vediamo cosa significa dockerizzare la nostra applicazione. Fondamentalmente significa suddividere i vari blocchi, suddividere la nostra applicazione in microservizi, e quindi lo schema a blocchi in questo caso ci aiutava. Quindi avremo i nostri microservizi suddivisi nei vari container, quindi il primo container per i web server, il secondo container per la Python web app, il terzo container per la data persistency. Quindi quello che si fa nel processo di dockerizzazione è costruire le immagini docker a partire da una ricetta, che sono i nostri docker file, dopodiché istanzieremo i nostri docker container, lanciandoli. Vediamo come sono fatti queste ricette, questi docker file. Partiamo dalla Python web app. Come è fatta la ricetta, il docker file della nostra Python web app? Come dicevo prima, in primo luogo ci sarà quel sistema di layering, che ci permette di ereditare un'immagine preesistente. In questo caso partiamo da un'immagine Ubuntu, sulla quale costruiamo la nostra applicazione. Quindi cominciamo con installare quello che sarà per noi il nostro interprete python e il nostro pip, che ci servirà poi per copiare all'interno dell'immagine docker la nostra applicazione. Dopodiché indicheremo a docker qual è il servizio che vogliamo esporre, qual è la porta che vogliamo esporre. E infine indichiamo a docker qual è il processo base della nostra immagine. In questo caso utilizzeremo USGI, perché sarà la nostra interfaccia tra la web app e il front end su Nginx. Questa per quanto riguarda la ricetta per la web app. Molto più semplice è la ricetta per il web server, in cui ereditiamo già un'immagine di Nginx, sulla quale copiamo il nostro file di configurazione per il virtual host, e indichiamo il servizio da esporre sulla porta 81. Diverso è l'immagine per Redis, in quanto già è esistente un'immagine per Redis che va bene, quindi non dovremmo scrivere nessun docker file per quanto riguarda Redis. Come lanciamo i nostri containers? In primo luogo creiamo le build delle immagini, quindi la build per la nostra web app, quindi l'immagine per la nostra web app attraverso il comando docker build, e l'immagine per il nostro Nginx attraverso il comando docker build, non ce ne sarà bisogno per quanto riguarda Redis. A quel punto inizieremo a lanciare i nostri docker container. In primo luogo Redis, dopodiché lanceremo attraverso il comando docker run la nostra web app, e attraverso la direttiva link collegheremo il nostro container web app al docker precedente, che è Redis. In terzo luogo lanceremo quello che è il nostro fronte, e lo collegheremo attraverso la direttiva link al container precedente. Verso la direttiva P indicheremo invece a docker qual è la porta esposta, che era l'81 all'interno del container, verso l'esterno. Quindi il nostro fronte risponderà sulla porta 6081. Abbiamo visto quindi che costruire, dockerizzare la nostra applicazione, richiede un po' di sforzi, un po' di comandi in sequenza. La domanda per il mio collega è se è possibile automatizzare tutta questa procedura. Allora, il punto fondamentale è proprio che fino ad ora abbiamo visto come docker ci può aiutare a gestire i nostri esercizi. Adesso invertiamo i ruoli e vediamo come il python ci può aiutare a eseguire le nostre informazioni. informazioni, va meglio? Le nostre informazioni, le nostre operazioni con docker, ok? Allora, io non so quanti di voi sono familiari con questo logo. Beh, questo figo è destinato a diventare un figo secco perché di fatto questo tool che è molto utilizzato, è stato inglobato recentemente da la galassia docker e non fa nient'altro che aiutarci a definire in un singolo file tutto l'insieme dei servizi che compongono la nostra web app. Quindi i vari blocchi che noi abbiamo visto vogliamo centralizzare la definizione di quel tipo di configurazione e anche lanciare o fermare tutto il nostro insieme di servizi, il nostro pacchetto che era composto da Redis, Nginx, Python via Bottle con un singolo comando. La ricetta diventa dunque un singolo file con sintassi YAML in cui abbiamo le sezioni una per componente e questa sezione ha il duplice compito di dirci sia come deve essere fatto il build dell'applicazione sia come deve essere eseguita e come vi dicevo non solo centralizzare e semplificare con sintassi YAML la configurazione di un insieme di microservizi, bensì lanciarlo con un singolo comando. Quindi noi facciamo docker compose app ovvero ex fig app e otteniamo il build qualora sia necessario delle nostre immagini e il run dei tre servizi. Ora questo è solo uno dei tre tool da cui abbiamo, che ci vengono in mente, dal quale abbiamo iniziato la nostra esplorazione su come Python ci può aiutare a semplificarci la vita quando si parla di docker. Facendo nomi diciamo di un certo calibro vi potrei continuare a parlare di Solstack e anche di Ansible che hanno a loro volta dei moduli, dei plugin per poter gestire docker. Nel loro lavoro di orchestration ci riescono ad aiutare anche con docker. Ora che cosa condividono questi tool notevoli? Condividono un core comune ed è una libreria che è docker.py e che è il dietro le quinte dei vari tool python che ci sempliquiamo la vita nel lavorare con docker. Come lavora questa, su cosa fa fulcro questa docker.py? Docker.py fa fulcro sul fatto che quando si parla di docker demon che gestisce sulle nostre macchine virtuali o macchine fisiche, i nostri container, essa espone una API che è praticamente quella che dietro le quinte viene usata dal comando, dal command line docker. Quindi in condizioni normali esiste, la vaniglia version, noi abbiamo un socket unix in locale che però possiamo riconfigurare per poterci accedere da remoto via TCP. Ebbene, la vostra docker.py, qualora voi intendiate integrarla nelle vostre applicazioni, non farà nient'altro che dialogare con il docker demon tramite questa API e mettervi a disposizione un'interfaccia programmatica per poterci interagire. Ora, perché c'è scritto TCP o non c'è scritto come qualcuno si potrebbe immaginare, si poteva immaginare HTTP, lo vedremo fra un po'. Dovendovi snocciolare le funzionalità di base, quelle principali di docker.py, non si può fare a meno di dire che ci dà accesso completo a quelle che sono le capacità di ispezione dei container e delle immagini, così come ci permette di lanciare programmaticamente i building delle nostre immagini, quindi potete costruire le vostre immagini dentro programmi Python e dunque lanciare e fermare i vostri container. Parliamo in generale di orchestration dei vostri container, non di meno vi potete interfacciare al famoso docker hub, il repository pubblico di immagini, di cui vi parlava Giancarlo prima. Ora, di tutte queste funzionalità notevoli, voglio parlarvi per brevità ovviamente del talk di information gathering e di container orchestration. Iniziamo dal recupero di informazioni. Allora, questo esempio banale mi serve per farvi vedere come sia facile, immediato, quasi banale, poter controllare programmaticamente il nostro docker daemon. Non si deve fare nient'altro che, una volta importato il modulo ovviamente, istanziare un client, dandogli la connection URL e a questo punto l'istanza del client che otterrete non è nient'altro che la versione, il modulo, l'attuatore dentro il vostro programma Python che vi dà la stessa potenza che voi avreste dalla command line di docker con in più però, ovviamente, tutta la vostra potenza che potete esprimere nel creare i vostri programmi. Quindi, esempio classico, vogliamo sapere sulla macchina dove gira quel docker daemon quali container sono running. A fronte di questo comando tipicamente ci troviamo di fronte a una risposta che è JSON. JSON viene usato praticamente ovunque da questa libreria. e qui l'esempio pratico è l'Nginx che faceva parte del sistema Music Award. Ora però, non tutta così banale. In particolare, se parliamo di information gathering, c'è una particolarità con cui ci dovremo senz'altro scontrare. docker API è per lo più REST. Che intendo REST? Per lo più REST. Se voi avete bisogno di informazioni tipo i log interni di un container, di estrarre i log che vengono fuori da lo standard error e standard output di un container o piuttosto il progress di una build, il docker daemon può fornirvele in streaming mode. Cosa intendo per streaming mode? Intendo che il normale canale HTTP di una REST viene promosso ad un canale TCP. E lo scenario, ovviamente, quando dovete interagirci, si trasforma totalmente. Perché? Perché vi ritrovate dal classico paradigma request-reply ad avere delle socket raw receive dal canale TCP persistente. Come questi internals vengono modellati e astratti dalla docker pi a fronte della ricezione di un response da parte del docker daemon, che è così, questo non è nient'altro che il dietro le quinte di avere la promozione di un normale canale HTTP verso il TCP. Ed è qualcosa che dovrebbe risultare familiare a chi ben o male ha masticato un po' i web socket in fatto di promozioni di canale HTTP. Dunque, dicevo, vediamo come si riesce a manipolare e a coprire questi tipi di dettagli usando la docker pi. La docker pi, quando vogliamo estrarre informazioni, ad esempio, quando siamo interessati ai log, che in questo caso sono lo standard error, lo standard output del main process del container, ci consente di specificare che vogliamo l'output in modalità stream. Da questo punto in poi, il ritorno di questa funzione non sarà un JSON con l'output, bensì, come qualcuno di voi può immaginare, è un generatore su cui noi itereremo e quindi avremo snocciolato standard error e standard output. Ora, questo per quanto riguarda l'information gathering. Possiamo anche fare orchestration, come vi dicevo. Quindi lanciare container, le nostre app all'interno di container e fermarle. Dunque, se vogliamo lanciare un contenitore e quindi l'applicazione dentro un container, dobbiamo fare due passi. Il primo è dichiarare il nostro container con dei parametri che sicuramente sono obbligatori, tipo l'immagine, ma possiamo anche specificare delle opzioni che delimitano il numero di risorse che quell'istanza di kernel assegnerà. Docker assegnerà un certo sottoinsieme delle risorse attuali. Fatto questo primo passo, ci basterà semplicemente traendo l'ID del container lanciare il contenitore tramite l'endler che è il nostro client. Client che sarà in modo speculare utilizzabile per fermarlo quando ne avremo la necessità. Ora, abbiamo messo sul tavolo degli ingredienti molto semplici, però con un piccolo esempio interattivo vogliamo farvi vedere come degli ingredienti così semplici possono comunque produrre, seppur in forma di giocattolo, qualcosa di estremamente interessante. Riprendiamo il nostro servizio fatto da tre componenti. Avevamo Nginx come web server e quello che vogliamo fare è semplicemente incominciare a trarre delle informazioni dall'access log del nostro web server e con la nostra applicazione che integra Docker Pi in base al numero di tracce al secondo, ovvero un riflesso del carico ipotetico che ci arriva in ingresso di richiesta HTTP, fare dynamic balancing dei container. Quindi a questo punto vi proponiamo un esempio interattivo. Allora, le parti componenti sono nient'altro che una GUI per semplificare la la visibilità di ciò che avviene dentro Docker, quindi questo è uno dei tre o quattro tool esistenti in giro per poter containers. Posso lo faccio io? Sì, sì, no, i containers. Ok, quindi a sua volta dockerizzato abbiamo una semplice UI e facciamo così, col famoso compose app, Docker compose app, lanciamo sia Nginx, sia la nostra web app Music Award, sia Redis come back end per i contatori dei voti. Quindi singolo comando, siamo felici e contenti perché con un singolo comando abbiamo tirato su tutto il nostro sistema. Potete vedere qui i container che sono up and running sulla nostra macchina. E a questo punto noi attacchiamo un nostro componente che abbiamo chiamato load balancer e che non ha nient'altro che il compito di fare sniffing delle tracce per secondo nell'access log dell'Enginex e in base a questo a partire da una tara di un container solo se la capacità diciamo la capacità di sette richieste al secondo che abbiamo dichiarato per questo container viene ecceduta allora verrà in automatico lanciato per bilanciare il carico un altro container della stessa immagine della web app di questa immagine qua. Quindi iniziamo con un esempio in cui si lancia un burst di tre richieste al secondo quindi io mi aspetto che il carico non sia abbastanza da sollecitare lo spawning di un altro container e vediamo che infatti i container rimangono ancora uno. cosa diversa invece è se proviamo ad esempio a sollecitarlo con un circa dieci richieste al secondo abbiamo detto che un container ne sopporta sette quindi mi aspetto che per sopperire il carico mi venga fatto il launch di un altro container. Vediamo se eccolo qua e dovremmo vedere anche il riflesso questo nel eccolo qui autobalance web app 1 e stop e siccome in merito a quello che ha detto Alex Martelli oggi con il talk di apertura abbiamo pensato anche a buttare giù i contenitori una volta tanto che il carico diminuisce per fare le cose diciamo non solo per tirare su container ma anche per per distruggerli una volta che il carico diminuisce infatti sparisce quando il flusso in ingresso sparisce. Detto questo speriamo di avervi dato un senso compiuto di tutto quello che si può fare la domanda se vi viene in mente ma è perfetta la libreria Dockerpile la risposta è no e bisogna stare attenti perché ad esempio tool come Docker Compose usano la 072 di Dockerpy sono stati progettati per quello ma ha molti problemi e quindi vi consiglio di usare sempre la più recente tipicamente dalla 1.0 in poi si sono un po' stabilizzate le cose e nota ad esempio nel nostro lavoro noi ci siamo trovati in difficoltà perché avevamo esigenza di avere una libreria che lo gestisse con HTTP asincrono Dockerpy dietro a request e quindi secondo me noi un buon improvement sarebbe poter avere nel parco una libreria asincrona una Dockerpy asincrona e con questo è veramente tutto quanto se ci sono domande siamo qui per rispondere in alternativa offline potete mandarci un'email o anche in questi giorni saremo comunque domande domande ciao grazie per il talk volevo chiedere avete esperienza in termini di service discovery quindi nel momento in cui un nuovo container viene lanciato come l'ho agganciata eventualmente load balancer o altri sistemi di distribuzione del carico ecco per quanto riguarda se si sente faccio senso per la registrazione allora è evidente che come ho premesso questo era un toy quindi dietro non c'era un Nginx Plus con lo sniffer del servizio che c'era dietro ma se vuoi andare in quel senso lì allora ecco che lo pensi in questo modo avere dei tool per il quale in fondo il problema non è che si sposta di molto se ragioni con macchine virtuali o se ragioni con container docker quindi io ti direi beh ci metterei un Nginx Plus è sufficiente? ok ci sono altre domande? bellissimo grazie non ho capito la connessione al demone su cosa passa cioè se passa over network over internet o se è in locale mi colleghi in SSH a quella macchina e da quella macchina avvio docker pi allora per default ascolta su socket unix e ascolta richieste http quindi il demone lo tiri su una macchina e avrai in var run qualcosa il tuo socket unix puoi riconfigurarlo per ascoltare su una porta tcp e a parte quell'eccezione quella dello streaming te avrai un demone che ascolta su interfaccia tcp richieste di tipo rest e qui è veramente consigliato usare il tls tls che guarda caso è uno di quei talloni da chille della docker pi spesso e volentieri perché la urlib sulla receive socket raw level la urlib 3 usata sotto può dare dei problemi certe volte ecco perché dicevo si ci sarebbe bisogno di una libreria migliore ma va nella direzione giusta comunque questo è hai un socket che per default ti ascolta in locale per motivi di sicurezza poi farlo ascoltare su qualcosa di su una porta che riceve comandi a remoto con tls abilitato quindi un certificato ah si metterci davanti un nginx però a quel punto bisognerebbe chiedersi lo streaming se e come funziona con nginx quindi si puoi frapporre un nginx fra il docker daemon e il tuo client la tua applicazione python ciao grazie per il talk allora una domanda noi abbiamo a livello aziendale una marea di codici fondamentalmente su chef e ci stiamo ponendo il problema di per migrare dei pezzi infrastrutturali magari su su piattaforme esterne quali amazon via dicendo di impacchettarli dentro dei container docker ci sono delle best practice è una c'è una berrazione oppure c'è una soluzione per problemi di questo genere qua oppure no ma best practice senz'altro se parliamo di partner architetturali il discorso che quando ci si sposta verso il mondo di docker si mira molto ai microservizi il punto fondamentale è che quando lanci un container docker tu hai un main process ed è quello su cui fai start e stop quindi se io penso a un full featured ubuntu server immagino sopra diversi servizi no quindi quando io penso a una migrazione da quel modello a qualcosa che è dockerizzato in primo luogo penso a compartimentare per singoli servizi per microservices la mia infrastruttura quindi ancora prima a livello di progettazione devo sicuramente fare questo nello specifico non conosco CEF però è senz'altro il salto mentale che ti pone docker e gli sviluppatori stessi dicono che se ad esempio te fai girare supervisor D per dirne una che ti lancia 10 servizi dentro il docker è un modello ibrido stai forzando quella che è naturalmente l'approccio docker ok quindi questo è il focus deve partire da lì nel migrare verso docker poi CEF non lo so farà anche orchestration immagino ok quindi ti dovrai ovviamente dovrai rirazionalizzare magari con il plugin docker ng di ansible un'orchestrazione da remoto su delle macchine virtuali vmware magari quindi avrai n container docker su una macchina vmware e sopra c'hai ansible sopra ansible te la comanda col plugin docker ng che guarda caso usa docker py quindi grazie per il talk molto interessante avrei una domanda velocissima prima hai parlato di upgrade da http a tcp però per come lo sapevo io http è a livello applicativo mentre invece tcp è sotto a livello di trasporto penso intendessi web socket non è web socket è proprio tcp tcp over http si di fatto te fai hijacking quindi stai soffiando quella che è la normale comunicazione request reply se con http 1.1 su cui puoi fare anche pipelining giusto delle richieste te in primo luogo devi aprire un socket inet quindi un tcp e poi ci fai passare sopra le tue richieste ci siamo messi d'accordo per il protocollo http se ci mettiamo anche d'accordo che quando mi arriva una response l'ho chiamata upgrade chiamala downgrade mettiamoci d'accordo io so che da quel punto in poi tu mi sparerai qualcosa che non è formattato come una response http sono stream di byte stream di byte sulla stessa connessione che hai instaurato e io so che dovrò leggerla in modo raw tutto lì è del tutto convenzionale chiamarlo upgrade un'analogia di questa cosa un po' strana di una cosa che abbiamo usato tutti spero un milione di volte l'ftp passivo cioè una connessione sola invece della strutturata ftp adesso ti devo spedire un megabyte di file è un blob che arriva lo puoi chiamare stream lo puoi chiamare blob ma è un megabyte nudo e crudo che ti arriva lì no per chiarire questo upgrade di cui parlavamo fa parte dello standard http è solo http ti lascia la strada per poter fare questo tipo di cose te potresti ad esempio stabilire un altro tipo di protocollo e dici ok iniziamo con http poi io ti dico senti accetti quest'altro e fai commutazione perché c'è una base comune che è la connessione che è persistente tcp e tu sopra incominci a parlarci un protocollo diverso quindi puoi farlo puoi farlo un tuo protocollo custom puoi fare è una tecnica del tutto generale http ci lascia la strada per poter far questo non abbiamo tempo per ulteriori domande mi dispiace comunque siamo siamo comunque fuori in giro quindi si non scappiamo grazie 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 a tutti grazie a tutti